Nel 525 Pietro Bembo pubblica le prose della Volgallingua in cui sostiene che i modelli da utilizzare per la letteratura italiana sono il Pedrarca del Canzoniere e il Decameron di Boccaccio per quanto riguarda la prosa. Quindi i modelli vanno rintracciati nella letteratura italiana toscana del 300, non è contemplato Dante perché era uno sperimentalista, anche se è nominato Dante ma non è il modello principale perché è troppo sperimentalista, aveva creato neologismi, quindi è difficile prenderlo a modello. Allora, la questione della lingua sono un dialogo tra alcuni personaggi, Carlo Bembo che sarebbe il fratello di Pietro Bembo dell'autore stesso e che in realtà rappresenta un suo alter ego, quindi andrà a esporre la tesi di Pietro Bembo, quindi dei modelli del 300 toscano Pedrarca e Boccaccio. Giuliano De Medici che è un sostenitore della tesi del fiorentino moderno, quindi andrà a rappresentare la tesi di Machiavelli. Ercole Strozi che è un liatinista, quindi colui che sostiene che bisogna utilizzare come modello la lingua latina. Questa tesi verrà subito scartata perché la lingua latina ormai nel 500 è una lingua straniera. E poi Fregoso che invece parlerà del primato del volgare, quindi la sua tesi è piuttosto simile a quello di Carlo Bembo. Allora, diciamo che secondo Bembo la lingua cortigiana era troppo artificiale, quindi una non lingua perché non ha una tradizione letterale, quindi non bisogna prendere come modello per la cosiddetta questione della lingua cortigiana e neppure la lingua fiorentina attuale, cioè quella del 500, perché è troppo popolare. La lingua toscana trecentesca invece è regolata pura, varia e regolata. Dunque, secondo le proesse della volgarlingua, dobbiamo utilizzare come modelli Petrarca e Boccaccio. Le proesse della volgarlingua avranno un grande successo, una grande diffusione, diventano un vero e proprio modello, infatti si diffonderà il petrarchismo, cioè un movimento di letterati che saranno proprio imitatori di Petrarca e il latino verrà abbandonato nella produzione letteraria. Ad avere invece una posizione antitetica sarà appunto Machiavelli, che invece è il sostenitore del fiorentino moderno nella cosiddetta cultura della contraddizione alla quale appartiene Machiavelli, Ariosto e il manierismo, che si distacca dal rinascimento.